Il principe Ferri e Meghan Markle hanno approcci diversi su come vogliono crescere i propri figli, come avverte un esperto su possibili problemi genitoriali nella famiglia del Sussex. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa di Sussex, hanno approcci diversi su come allevare i propri figli, e se dovrebbero portarli sotto i riflettori del pubblico, ha affermato un insider. Il principe Archie, 4 anni e la principessa Lillivet, 2, sono stati in gran parte tenuti lontani dagli occhi del pubblico, ma ora sembra che Meghan Markle voglia averli con sé mentre torna nella vita pubblica, mentre il principe Ferri, teme per la loro incolumità, a causa della sua educazione, e vuole tenerli il più possibile lontano dai riflettori. L'insider ha detto al Sun, a volte non sono d'accordo su certi approcci. Un'altra fonte ha aggiunto. C'è una differenza nel modo in cui lui, Ferri, è cresciuto. Teme per i suoi figli a causa di quello che ha passato, e ora un esperto reale ha avvertito di possibili problemi genitoriali nella famiglia del Sussex. Ha detto a GB News. C'è uno scontro di culture, uno scontro di interessi, ma dovranno in un modo o nell'altro riconciliarlo. Alla fine, ciò che è sempre un problema è come allevare i propri figli. E se non si riesce a mettersi d'accordo su questo, diventa un grosso problema. Questa sarà la loro prossima grande prova. Come istruiranno e alleveranno i bambini? Nel frattempo, Ferri e Megan, si stanno preparando a tornare a New York per la prima volta dal loro inseguimento in macchina quasi catastrofico di maggio. Ospiteranno il loro primo evento di persona dell'Archival Foundation, che si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale la prossima settimana, il 10 ottobre. E un esperto ha detto che intendono fare del loro meglio, per evitare una ripetizione della loro ultima visita.